Sono passati quattro anni da quando Michael Myers è scomparso senza lasciar traccia. Ehi! Ero sicura di averlo visto, che mi guardava. Tu fingi di aver voltato pagina, ma sei ossessionata dalla morte. Cosa farà quando Michael tornerà a cercarla? Perché sta arrivando. Ma stavolta sento che c'è qualcosa di diverso. È più pericoloso. Lui ha ucciso mia figlia, ma stanotte sarò io a uccidere lui. Vieni a prendermi. Lory! Forse l'unico modo perché lui muoia è che muoia anche io. Finisce tutto ora. Se sei venuto a uccidermi, allora fallo! Grazie a tutti!